RAI, RADIO TELEVISIONE ITALIANA, RADIO 1 Le trasmissioni proseguono fino alle ore 6 con i programmi di RADIO 1 in modulazione di frequenza e con il notturno italiano in onda corta dalla stazione di Roma su KHz 6060 dal quarto canale della filodiffusione e in onda media dalle stazioni di Napoli su KHz 657 di Milano su KHz 900 e di Roma su KHz 846 Signore e signori, buon ascolto Signore e signori, buon ascolto Ore 24 RAI, il giornale della mezzanotte L'attacco di Valentina Montanari, studio per questa edizione del giornale della mezzanotte, ecco i titoli Primi fermi a Boston che si è dettati in America, alcuni dei terroristi erano stati addestrati in scuole di pilotaggio americane Si rafforza l'ipotesi di una responsabilità di Bill Aden L'attacco portato agli USA è attacco a tutti La tragedia è un business, già in commercio un videogioco con l'attacco alle torri gemelle di New York Attacco israeliano a Genino, uccide i nove palestinesi A Francia anche l'UEFA si accorge negli attentati e rinvia le partite di Coppa Con il passare dell'UE gli Stati Uniti si stanno lentamente riprendendo dallo stato di shock iniziale Per scoprire l'enormità della tragedia che si è abbattuta sull'intero paese e non solo su New York o Washington In tutta l'America continua la gara di solidarietà per donare il sangue